Eder. Mech. Pallister. Enna, individuato e arrestato Matteo Menzo, il 22enne che nel pomeriggio del 23 gennaio ha ucciso a coltellate il padre Gaetano. Rintracciato prima telefonicamente è stato poi individuato mentre vagava tra la parte alta della città ed Enna Bassa, la polizia poi l'ha portato in questura mettendolo in stato di fermo. Secondo la ricostruzione vi sarebbe stata una discussione accesa poco prima dell'ora di pranzo, poi la violenza. Secondo gli investigatori, Gaetano Menzo, imprenditore edile di 48 anni, sarebbe stato ucciso dal figlio al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto in Via Mola, nel centro storico di Enna intorno alle 14, quando il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato dal fratello dell'imprenditore nell'appartamento di Via Mola in una pozza di sangue. Secondo gli inquirenti, Matteo Menzo, avrebbe colpito il padre con un coltello, per poi, subito dopo, darsi alla fuga. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. Ehi, non dimenticare. Ehi, non dimenticare. Ehi, non dimenticare. Edermetalliser